Arunghè, Arunghè ma Arunghè, Arunghè ma Arunghè Arunghè Kenia è diventata una colonia britannica nel 1920 e ha ottenuto l'indipendenza nel 1963, quindi ha avuto 43 anni di dominio britannico. Intanto parlare di Kenia a quel tempo è quasi assurdo perché non esisteva la nazione Kenia, era stata creata dagli inglesi in cooperazione con i tedeschi che allora occupavano Tanzania, quindi hanno creato questo paese facendo un ammasso di tribù, di etnie che erano totalmente estranei l'una all'altra. Alla fine degli anni 50 c'è da dire che la Gran Bretagna era già orientata comunque, si stava ritirando da tutti i suoi possedimenti coloniali anche per pressioni proprio del popolo europeo che tendeva la libertà dei popoli eccetera. E quindi sarebbe arrivata quasi certamente a concedere l'indipendenza al Kenia, così come aveva già fatto in India e in altri suoi possedimenti. Purtroppo alla fine degli anni 50 invece è esploso un fenomeno che adesso risulta chiaro anche da parte di tutti gli storici che era stato influenzato, non solo influenzato, organizzato, supportato dalla loro Unione Sovietica. E questo è il movimento famoso dei Mao Mao, quello di cui perlomeno quelli che hanno la mia età lo ricordano ancora benissimo per il fatto che era stato estremamente cruento eccetera. E questo movimento risultò poi che era stato non solo ispirato ma anche proprio condotto da Jomo Kenyatta che è poi diventato il primo presidente del Kenia. Questo movimento di Mao Mao è stato proprio crudelissimo e a differenza di quanto oggi si insegna nelle scuole del Kenia, perché chiaramente vengono presentati i Mao Mao come i liberatori della Pazio, in realtà il loro proposito non era largamente condiviso, anzi contrario, era assolutamente non condiviso dalla stragrande maggioranza della popolazione. I Mao Mao, così come il loro leader Kenia Alta, erano di etnia Kikuyu, che è tutt'oggi l'etnia dominante del Kenia. C'è da dire che anche la stragrande maggioranza dei Kikuyu si opponeva a questo movimento, tant'è che alla fine chiaramente l'Inghilterra, dopo la mattanza a cui questi Mao Mao avevano dato origine, ha deciso di inviare un corpo di spedizione, però alla chiusura di questa ribellione le vittime europee sono state pochissime, perché si contano 30 coloni uccisi proprio nel primo momento di ribellione, 37 militari bianchi, che facevano parte del corpo di spedizione, hanno perso la vita, ma da parte africana sono morti 10.000 Mao Mao e oltre 100.000 Kikuyu, e questi 100.000 Kikuyu sono morti perché non volevano aderire alla setta di Mao Mao, alla quale tra l'altro si accedeva attraverso una ritualità capricciante, molto basata sulle antiche tradizioni della stregoneria locale, eccetera. Quindi cosa comportò questo? Comportò che l'indipendenza che stava per arrivare è stata inviata ben sette anni, che sono gli stessi anni in cui Jomo Kenyatta è rimasto rinchiuso nelle carceri britanniche, come responsabili di questa ribellione. Ma Kenyatta era un uomo ambizioso, era un uomo scaltro, sicuramente capace e aveva studiato in Inghilterra, e già in Inghilterra si frequentava assiduamente i circoli sovietici, quindi l'ideologia marxista in quei tempi era quella da cavalcare, Kenyatta la cavalcata. Ed è fra tutti i paesi vicini, arrangiando l'egemonia sovietica, e lui ha fatto altrettanto, appunto dedicandosi al marxismo e raccogliendo intorno a sé questi leader che erano tutti di impronta marxista, però quando dopo si è reso conto, come dicono gli inglesi, if you can't beat them, join them, lui si è reso conto che a un certo punto non poteva farcela con l'impero britannico e non sarebbe riuscito a ottenere l'indipendenza, cosa ha fatto? Finita la sua carcerazione, ha fatto un patto con gli inglesi che sono diventati i più formidabili alleati e ha mandato al macero, addirittura qualcuno è stato ucciso da Kenyatta, tutti i vecchi compagni che erano proprio i portatori dell'ideologia marxista. Dopodiché chiaramente ha regnato, una cosa singolare è che nel momento del passaggio delle consegne, quando la flotta inglese si allontanava dalle coste del Kenya, è scoppiata una violenta lotta tribale, subito e immediatamente in Kenya, tant'è che Kenyatta è stato costretto a richiamare indietro gli inglesi perché tornassero e cercassero di mettere pace, infatti gli inglesi sono poi rimasti stabilmente in Kenya, una loro guarnigione che c'è ancora adesso e ha protetto il Kenya anche ai tempi di Amin Dadà, insomma è stata una presenza che ha consentito al Kenya un certo sviluppo. Kenyatta è poi morto se non sbaglio nel 1976, comunque a lui hanno fatto seguito altri presidenti, lui stesso per evitare scontri, perché vedremo poi che le due etnie più rivali sono stati il Luo e il Kikuyu, i primi di etnia Bantu, i secondi di etnia Nilota e lui per evitare questi scontri ha avuto la saggezza perché nonostante tutto, insomma nonostante che si sia arricchito oltre misura come tutti i leader africani, anche lui però una certa saggezza gestionale del paese l'aveva dimostrata e quindi come suo successore ha messo Dalia Rarab Moi che apparteneva a una tribù abbastanza significante allora che era quella dei Kalenji, in modo proprio da non creare rivalità tra le tensioni. Moi è rimasto al potere lungamente, nonostante che nel 1992, perché era monopartitico il sistema, quindi in pratica era una dittatura, però nel 1992 su pressioni internazionali il Kenya era prodato al multipartito, nonostante alle elezioni del 1992 con delle operazioni di Broglie eccetera eccetera, Moi è stato riconfermato per un periodo di cinque anni e dopodiché siccome la legge del Chiaria prevede che oltre due mandati non si possono più fare, è stato poi seguito da Kibaki, da Muai Kibaki, un altro Kikuyu e successivamente dopo due mandati svolti da lui è stato nominato Uru Kenyatta che era il figlio di Giomu Kenyatta. Ora tutte le elezioni che si sono svolte, compresa quest'ultima che è appena finita, non so se è stata seguita anche in Europa, presumo di sì, è sempre causa di lotte, di battaglie, di uccisioni, che questa volta ne hanno uccisi pochi teoricamente, in confronto alle vecchie elezioni, però sono morte 100 persone, quindi non è una cosa da ridere. E al momento, cosa è successo però durante l'epoca Moi, questo per arrivare poi al Kenya odierno, è successo che l'Occidente aveva bisogno di un assetto geopolitico in Africa, perché il Kenya era circondato da paesi che era incaduti nell'orbita sovietica, pensiamo all'Uganda con la Min, pensiamo all'Etiopia con Mengistu, pensiamo alla Tanzania con Nierere, quindi il Kenya era indispensabile come punto di riferimento per l'Occidente. E questo ha fatto sì che i leader di questo paese fossero sempre vezzeggiati, soprattutto Moi, quindi fiumi di denaro, non si diceva mai di no le loro richieste, e questo cosa ha portato? Ha portato a fiorire della corruzione, che è l'elemento che assofoga praticamente l'emancipazione del Kenya di oggi, come di gran parte dei paesi africani. Quindi il Kenya di oggi è un Kenya dove praticamente non ha grossi investimenti, ha una legalità molto discutibile, recentemente un rapporto di un'organizzazione americana ha posto la polizia del Kenya al terzo posto come le peggiori polizie del mondo, per cui voglio dire questa è la situazione attuale. Le elezioni hanno una parvenza di democrazia, ma non sono mai limpide, ed ogni volta succedono dei brogli, succedono delle mistificazioni, eccetera. Questa volta l'opponente di Kenyatta, di Uru Kenyatta, Uru tra parentesi vuol dire libertà in Kenya, quindi ha preso un nome dall'indipendenza, era Rail Odinga, che era di El Nialuo, e quindi questo spiega che lo scontro è costantemente non rivolto al candidato che può fare qualcosa per il paese, ma rivolto esclusivamente all'appartenenza etnica. Gli stessi politici non parlano mai di programmi elettorali, non dicono mai che cosa faranno per il paese, semplicemente denigrano l'avversario e purtroppo lo stesso popolo fa così. Quando parlano non dicono ma ci danno la scuola, ci daranno gli ospedali, ci darà la sanità, è tragica in Kenya, ma parlano male del rivale, perché il rivale è un Kikui oppure un Uru. Questa è la situazione del Kenya di oggi. Il Kenya, dalle ultime verifiche, risulta avere 48 milioni di abitanti, che non sono tantissimi rispetto all'Italia, sono pochi. Il Kenya tra l'altro è una volta e mezzo come superficie quella dell'Italia. Il punto è che ha uno dei più alti tassi di crescita demografica del mondo, mi pare che sia il sesto o il settimo posto. E questo è anche un problema, perché la povertà aumenta per altre ragioni, ma anche per l'incremento demografico. praticamente i ceppi fondamentali che ci sono in Kenya, i ceppi etnici, sono due. C'è quello dei Bantu, che praticamente è la rassa autotono dell'Africa subsahariana, e quello dei Niloti, che provengono dalla valle del Nilo. C'è una suggestiva ipotesi di alcuni storici, perché per quanto riguarda il Kenya, la valle del Nilo riguarda soprattutto il Sudan, che in passato, nell'antichità, era parte dell'Egitto, dell'Egitto dei Faraoni. Poi i romani hanno conquistato l'Egitto, e quindi hanno preso anche possesso del Sudan, anche se non ci andavano mai, perché era ancora una terra ostile, era difficile da percorrere, eccetera. All'epoca di Nerone, Nerone gli è venuto il chiribizzo di voler sapere dove erano le sorgenti del Nilo, cioè la classica domanda che tutti si facevano fino a molto tempo fa. E così ha ordinato i generali che erano a distanza in Egitto, di andare a verificare, a vedere dove era questa sorgente del Nilo. Ed è partita un'intera legione. Questa legione è poi stata definita come la legione perduta, perché non ha mai fatto ritorno indietro. Allora, cosa era successo? È impensabile pensare che una regione romana, vincitrice di cento e più battaglie, possettata sconfitta da degli indigeni non armati, non istruiti alla guerra, eccetera. Quindi l'ipotesi più probabile è che questi romani se siano trovati bene nella zona della Nubia, che è quella da cui proviene la maggior parte del ceppo Nilota, che è presente in Kenya, donne bellissime, anche abbastanza disponibili, quindi se siano fermati lì, erano stanchi di guerra, eccetera. Questo ha dato origine, secondo questa ipotesi, ha dato origine ai Masai. Infatti ci sono delle circostanze abbastanza singolari, perché mentre i nubiani sono neri come l'Ebano, bella gente, alta, robusta, atletica, ma sono neri come l'Ebano, con caratteristiche di tratti africani, mentre invece i Masai, tutti l'hanno potuto vedere, sono di pelle molto chiara e hanno una fisionomia abbastanza simile a quella occidentale, quella europea, per cui alcuni ritengono che sia stato questo ceppo originario della legione romana da aver dato vita a questi Masai, che poi si sono divisi in altre gemie, Samburu, Pocote, eccetera. La cosa singolare è che questo ceppo Nilota, anziché essere unito, è costantemente in guerra, soprattutto nella zona nord del paese e ci sono delle tribù, per esempio i Samburu, i Pocote, i Redil, i Turcana, sono regioni in cui i popoli di queste regioni sono dediti alla pastorizia e sono riottosi a dar vita a qualsiasi progetto agricolo, perché loro sono pastori e vogliono essere pastori. La siccità, eccetera, crea continui scontri tra queste tribù, ma scontri violentissimi. per accapararsi i pascoli e anche le mucche, già che ci sono, rubano anche le mucche degli avversari. E quindi quelle zone lì sono praticamente non controllate dal governo e sono fonte di continui scontri. È anche impossibile attraversarle senza un'adeguata scorta armata. Io ci sono stato circa dieci anni fa ed è problematico veramente avvicinarsi a quelle zone. per il resto tutte queste tribù separate tra loro sono 70, oltre 70, le tribù del Kenya. Quindi due ceppi etnici principali distribuiti in 70 tribù. Questo è anche un effetto proprio, dicevo, del Kenya, dei confini del Kenya tracciati a tavolino. se tu guardi, se voi guardate la cartina del Kenya, vedete che nella zona, nella parte orientale c'è una riga, così come c'è nella parte nord-orientale. Sono delle righe tracciate proprio, tratto il rappresentante del Kaiser, quello della Regina Vittorio, si sono trovati a bordo del treno e lì hanno fatto i confini del Kenya con un righello, delle righe, quelle righe però separavano in due delle etnie, per esempio separavano a metà i masai, per cui oggi abbiamo i masai della Tanzania e i masai del Kenya. Stessa etnia, ma probabilmente a quel tempo stesse famiglie, amici eccetera che si sono trovati stranieri. Lo stesso è venuto ai confini del nord, con la Somalia e con l'Etiopia. Infatti il Kenya oggi ha i somali del Kenya e i somali della Somalia. Ecco, questo indubbiamente ha creato un grosso scompenso nelle relazioni dei popoli. Adesso non posso citare tutte le settantennie perché ci metteremo mezz'ora, però comunque sono prevalentemente di Cepo Mantù e di Cepo Nilota, costantemente in lotta tra di loro. La religione prevalente, presa come religione singola, è quella cattolica. Anzi direi, nelle verifiche si mettono insieme cattolici e ortodossi, perché sono abbastanza similari. Però quella prevalente come gruppo è quella protestante, perché qui sono stati gli inglesi, quindi quelli protestanti hanno un sacco di singole obbedienze, però tutti insieme rappresentano quelle superiori. E poi ci sono gli islamici. Gli islamici rappresentano sono solo l'11%, ma fanno tanto di quel baccano che sembra che siano loro da avere la maggioranza. E poi oltretutto sono difficilmente gestibili gli islamici in Kenya. Direi che in certi casi sono forse più ancora turbolenti di quanto non siano in altri paesi. E infine ci sono gli animisti che sono soltanto sono ancora un 9%, cioè le religioni tribali, locali, eccetera, che, attenzione, sono diverse, ogni singola tribù ha la sua religione, il suo dio. Alcuni sono monoteiste in religione, altre sono invece con più divinità. Però ce ne sono ancora in un certo modo. Forse ecco, l'unica religione originale monoteista è quella dei Kikuyu, che credeva nel dio Hongai, che veniva dal monte Kenya, un monte che ha dato che ha dato origine appunto al nome del paese. Tornando un attimo ai confini, una cosa quasi grottesca, quel confine orientale che divide il Kenya dalla Tanzania, se si guarda la cartina si vede che a un certo punto quella riga dritta fa una piccola curva, un piccolo inserimento di una curva. Perché quella curva? Perché il Kaiser nella suddivisione dei territori protestò che la regina Vittoria aveva una montagna con l'incappucciata di neve e la voleva anche la Tanzania. Su quella lì c'era il Kilimanjaro e allora per fare contento il Kaiser hanno fatto una piccola curva e hanno assegnato il Kilimanjaro alla Tanzania. Questa è la situazione delle presenze etniche del Kenya al momento. Purtroppo la principale fonte di finanziamento oggi in particolare è quella degli aiuti internazionali. Sul Kenya si riversano tantissimi soldi e questi soldi sono dati dalle varie NGO pensate che solo in Kenya a Nairobi diciamo come base ci sono più di duemila istituzioni per aiutare l'Africa. Comprende questo comprende come la nostra cooperazione internazionale che tutte le ambasciate poi hanno la propria comprende gli NGO comprende le opere missionarie qui c'è una fortissima presenza dei missionari della Consolata dei Comboniani dei Salesiani eccetera quindi tutti questi organismi internazionali alcuni privati alcuni pubblici portano fiumi di denaro nel paese che purtroppo vengono fagocitati dalla classe dirigente che non li rimette non li rinveste quindi l'economia del Kenya si fino a pochi anni fa primeggiava sul caffè la produzione di caffè l'esportazione di caffè del tè e anche il piretolo il piretolo è un componente chimica che serve a fare gli insetticidi un tempo sul piretolo il Kenya era il leader mondiale adesso ha perso tutti questi primati e a livello industriale c'è quasi niente gli indiani hanno soppiantato gli antichi dominatori inglesi nella gestione diciamo commerciale soprattutto cioè il Kenya importa e li distribuisce avrebbe un grossissimo potenziale agricolo il Kenya però non è non è aiutato dal governo non ci sono piani di irrigazione non c'è una struttura che possa fare prestiti agevolati per avere i macchinari qui quasi tutto è lavorato ancora a mano come da noi facevano nel secolo scorso in Italia quindi insomma è una situazione un po' molto precaria direi il futuro del Kenya a mio giudizio è nelle mani della Cina così come lo è tutta l'Africa perché la Cina sta investendo massicciamente in tutta l'Africa qui in Kenya ha fatto recentemente la ferrovia ed è impegnata nelle costruzioni residenziali recentemente ho visto un rapporto e non ricordo adesso di chi comunque ho visto un rapporto sulla presenza cinesia sui progetti della Cina la Cina non dimentichiamo ha 500 milioni di poveri cada sua sotto la soglia di povertà su un miliardo e 400 milioni di abitanti non sono pochi primeggi a livello internazionale noi la vediamo come la Cina rampante che va verso è vero ma un miliardo e 400 mila persone prima di sfamarle tutte e quindi sta costruendo un'edilizia residenziale che non è alla portata delle tasche degli africani in generale diciamo e quindi è l'edilizia residenziale che domani dovrà ospitare i cinesi perché il progetto cinese è quello di venire in Africa e gestirla probabilmente sarà un bene per l'Africa perché certamente la Cina non manca di tecnologia per cui svilupperà l'agricoltura infatti stanno impossessandosi di grossi appezzamenti di terreno nonostante le proteste dei locali certo se ne impossessano grazie 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 alla collusione con il governo quindi svilupperanno certamente l'agricoltura tutto sta a vedere a chi andrà questo beneficio andrà ai keniani o andrà ai cinesi è facile prevedere che andrà ai cinesi e poi oltretutto la Cina perché riesce a prendere questi appalti riesce a prenderli perché non dice mai di no alle richieste di tangenti non possono avere molti scrupoli e direi non tanto per giustificare ma perché la loro necessità è quella di poter subentrare il Kenya forse è più fortunato perché non ha molte risorse minerarie ma loro stanno prendendo possesso dell'Angola stanno prendendo possesso della Nigeria dove c'è adesso del Ghana dove c'è oro dove ci sono diamanti dove ci sono riserve di grezzo e così via per cui parlare di futuro del Kenya non voglio essere troppo pessimista ma sarà un futuro cinese più che un futuro del Kenya purtroppo questa influenza è anche pesante perché la povertà e così le allettanti proposte che Al-Shabaab fa non solo quelle del paradiso di Allah ma anche soldi proprio aiuti alle famiglie eccetera è riuscita negli anni ad attirare moltissimi giovani musulmani come religione che addirittura militano oggi nelle file di Al-Shabaab e combattono contro gli stessi militari del Kenya che sono là nell'egida delle truppe ONU per contrastare Al-Shabaab e purtroppo questo è un problema enorme anche perché c'è un altro movimento che all'apparenza non avrebbe collegamenti ufficiali con Al-Shabaab che si chiama il Mombasa Republican Council è un movimento indipendentista che vorrebbe staccare la costa dal governo centrale di Nairobi e questo movimento è un movimento islamico anche lui ha attuato degli atti terroristi in passato e si sono scoperti dei link con Al-Shabaab quindi voglio dire in questo momento Al-Shabaab potrebbe avere una presenza proprio diciamo un punto d'appoggio in questo movimento che ha sede appunto a Mombasa e vuole staccare la costa dal governo centrale soprattutto per utilizzare il traffico portuale perché il Kenya dal porto di Mombasa c'è tutto il traffico che porta le merci dell'interno quindi in Uganda a volte anche in Rwanda stessa parte nel sud del Sudan e così via e quindi diciamo è un gioiello che produce denaro quello quindi sostanzialmente il terrorismo tu citavi prima l'episodio che c'è stato a Garissa non dimentichiamo quello di Westland del Westgate cioè di Nairobi dove anche lì e quello ha sorpreso soprattutto perché finora gli attentati avvenivano sempre sulla fascia costiera prevalentemente nelle zone limitroche vicino al confine mentre invece quello lì è avvenuto molto lontano quindi vuol dire che l'organizzazione di al-Shabaab è abbastanza diffusa abbastanza estesa nel paese ma al momento è abbastanza pessimistico bisognerebbe che l'Europa trovasse finalmente il modo giusto di relazionarsi con questi leader perché il nemico dell'Africa sono i suoi leader è inutile parlare è vero che l'Africa ha l'angue il Kenya ha un terzo dei suoi abitanti sotto la soglia di povertà 15 milioni sotto la soglia di povertà cioè è un paese che stava molto meglio all'epoca del primo Jomo Kenyatta di quanto stia oggi la corruzione di vampa eccetera quindi il nemico primo per lo sviluppo del paese è la sua classe dirigente chiaramente non solo il presidente ma tutto l'entourage che si porta dietro c'è una il land grabbing per esempio questa appropriazione a parte quella dei cinesi che almeno li sfrutterebbero questi terreni ma tutta la fascia costiera del Kenya per esempio è in mano a ministri parenti dei ministri e così via che è quella che nel turismo poteva essere meglio sfruttata prima ho dimenticato il turismo il turismo era fino a 5 anni fa la prima voce nell'economia del Kenya è morto è scomparso è scomparso perché mancano le infrastrutture ma adesso mentre stiamo parlando io sto usando il generatore perché la corrente non c'è quindi per dirti ci sono strade che non sono fatte per andare negli alberghi vabbè per i turisti rappresenterà un po' una specie di safari ma non ci sono strade molti alberghi non hanno l'acqua devono andare le autobotti a portarle quindi alla fine il turismo è quasi franato è quasi franato non c'è quasi più gli animali nei parchi stanno scomparendo nel Nairobi National Park è rimasto un leone maschio quando è morto morirà lui o le metteranno altri quindi bisogna secondo a mio giudizio bisognerebbe che l'Europa prendesse veramente a cuore la situazione dello sperpero che viene fatto invece li accogliamo su tappeti rossi li abbracciamo eccetera e continuiamo a erogare denaro anche la proposta adesso di Juncker di aiutare l'Africa certo bisogna aiutare l'Africa ma non semplicemente a livello governativo trasferire denaro dall'Europa alle mani dei governi perché quel denaro come ha fatto finora sparisce finisce gli aiuti ho visto io stesso delle navi scaricare riso scaricare olio e poi trovavi l'olio con scritto sopra Italian Aid nei mercati rionali che lo vendevano quindi se continuiamo così l'Africa non l'aiutiamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.